ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di mine test questo video come avrete potuto vedere dal dal titolo è un video sulla versione 0.4.10 che lo ammetto è uscita da più di un mesetto e mezzo perché è stata rilasciata il 6 giugno 2014 volevo però fare un piccolo video in cui esplico un po' le dinamiche che sono state aggiunte perché questa è stata una versione in cui sono stati introdotti molti cambiamenti soprattutto per quanto riguarda la parte di programmazione e di codifica delle mod ma anche per quello che riguarda i giocatori semplici come siamo noi giocatori che non creano magari mod o comunque non ne creano di particolarmente complesse per cui hanno bisogno di altri elementi il primo elemento da cui partiamo andrò in ordine seguendo il change log che potete trovare su internet saltando però le parti che sono meno interessanti la prima cosa che possiamo notare è il fatto che è stata aggiunta la visuale in terza persona mentre in minecraft è con il tasto f5 qui su mine test è con il tasto f7 ma funziona esattamente lo stesso modo cliccando una volta f7 cioè premendo una volta f7 vedremo il nostro personaggio di spalle premendo un'altra volta f7 lo vedremo di fronte e premendo di nuovo f7 torneremo nella visione visione normale la skin di base è quella normale no questa è quella della skin di base quella che avete appena visto però questo è questo è possibile cambiarla tramite delle mod per le skin che potete trovare sul sito o anche cambiando il file se siete in single player cambiando il file character.png che potete trovare su mods no su games ma in test come si chiama ma in test a la 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 ma in test qualcos'altro models e character.png se sostituite quella con un'altra immagine di una skin che potete trovare su internet quelle per minecraft vanno anche bene potete cambiare la vostra skin senza aver bisogno di nessuna mod quello però funzionerà solo per i mondi in single player o se per caso nei mondi multiplayer lo vedrete solo voi non vedrete gli altri vi vedranno con la skin normale il secondo cambiamento è un cambiamento relativo alle ossa che però è formato da tre piccoli cambiamenti nel senso il primo è il fatto che se l'inventario vuoto come nel mio caso non verranno create le ossa al momento della morte ora saltando qua dovrei morire no ritorniamo su e risperimentiamo la morte non viene più creato l'inventario il che è una cosa a mio parere molto furba perché era inutile creare quei blocchi tutte le volte per magari delle morti abbastanza inutili venivano creati dei blocchi lasciati poi chissà dove e quindi a mio parere è una questione molto furba ma è una caduta molto altra acqua perché non mi uccido mezzo cuore ma mi stai prendendo in giro non è possibile non è possibile diri 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 nel frattempo il mondo era già stato rivoluzionato saltiamo di qua ok you died ora rispondiamo chissà dove dove siamo ah ok dovrebbe essere qua dove ero un attimo fa si si era qua era qua come potete vedere non sono state create le ossa noi eravamo precipitati da quella zona la più o meno e non sono state create le ossa a questo punto forse mi conviene prendere della d'orto no ma dovrei averla in quella ceste facciamo vedere il secondo cambiamento il secondo cambiamento è il fatto che no adesso vi faccio vedere il secondo cambiamento prima devo prendere delle cose nell'inventario allora prenderò questa dirt che la userò per suicidarmi salendo di 27 blocchi dovrei effettivamente morire mentre cado però terrò quello stick nell'inventario ok adesso addio mondo crudele siamo morti avevamo uno stick come potete vedere qua si trovano le ossa sono un po alto notato non so come mai vengono spawnate più in alto del punto in cui eravamo probabilmente forse per i casi di morte nella lava in modo che noi siamo morti qui ok ma se noi siamo morti per per essere precipitati fossimo morti nella lava creando il blocco nella lava probabilmente sarebbe bruciato comunque non avremmo potuto cederci di nuovo a questo punto il come degli altri due cambiamenti è il fatto che cliccando una volta col tasto sinistro sul moccchio di ossa l'inventario viene automaticamente trasferito nel nostro inventario e nel caso il nostro inventario sia pieno vengono droppati gli oggetti e terra e le ossa non è più come precedenza non vengono più date nell'inventario le ossa spariscono e non esistono più insomma adesso un altro cambiamento per cui devo ritornare la sopra prendere un altro oggetto è un altro cambiamento a mio parere molto utile cioè almeno a me sarà molto utile quando giocherò e sono stato molto contento dall'aggiunta di questo cambiamento allora prendiamo una torcia va bene abbiamo preso 4 lo so piazziamo una torcia come potete vedere la torcia si muove perché le torce sono in movimento già da parecchio tempo forse dallo 0.4 al 0.5 adesso mettiamo tipo così e premiamo ESC la torcia come potete vedere si è bloccata per questo perché finalmente il tasto ESC mette in pausa il gioco quando si è in single player quando si è in multiplayer no perché effettivamente per gli altri il tempo continua a scorrere ma se siamo in single player il tempo si fermerà quindi questo vuol dire che non andrà avanti il giorno la notte eccetera eccetera ma si fermerà in questo in quel momento in quel momento può essere comodo soprattutto se ci sono delle mod con i mob che si stanno utilizzando perché se i mob arrivano di notte uno magari deve assentarsi un altro andare a FK se uno si mette in un bunker anche premendo ESC non si salva insomma mentre invece premendo ESC così viene tutto bloccato all'esterno un altro cambiamento interessante per cui abbiamo bisogno di prendere un altro pezzo di dirt è il fatto che se avete presente fino alla scorsa versione se avessimo provato a cercare di piazzare un blocco in uno dei blocchi in cui siamo presenti noi avremmo potuto farlo mentre invece adesso sia la che a livello degli occhi ah no a livello degli occhi a livello degli occhi non funziona ah no ok perché forse ero un po' più indietro comunque sia i piedi sia agli occhi non possiamo piazzarlo e questa è una questione molto comoda a me era capitato erano capitati dei problemi quando giocavo alla skyblock per mine test perché per esempio cercavi magari di piazzare un blocco qua però lo piazzavi per sbaglio qua sopra di te e lo shift non teneva più e quindi precipitavi grandi casino allora un altro cambiamento è questo premendo Q cosa succede? viene droppato l'oggetto selezionato ma quanti ne vengono droppati? ne viene droppato tutti nel senso qua ne ho due e vengono droppati due se droppo le torce vengono droppate quattro su minecraft è diverso perché su minecraft per droppare tutti gli oggetti invece bisogna premere control Q qua invece il cambiamento è stato non facciamo il contrario nel senso nei droppi uno di base nei droppi tutti solo se premi control qui per dropparne solo uno invece adesso hanno aggiunto la possibilità di premere shift e Q premendo shift e Q buttiamo un oggetto alla volta adesso si sono riunite di nuovo tutti là però avete visto come sono stati droppati uno alla volta un altro cambiamento interessante è quello del doppio clic cioè ora oltre al tasto ESC il tasto E per uscire dai menu diciamo dagli inventari piuttosto che dalla pausa eccetera eccetera si può anche cliccare due volte questo con gli inventari questo vale anche con il tasto ESC questo vale anche con le chest con tutte le possibili interfacce insomma altro cambiamento interessante per cui però adesso dovrei andare a cercare un bioma con il deserto temo che non ce ne sia qua facciamo time 6000 temo che non ce ne siano comunque sono stati fatti alcuni cambiamenti riguardo al deserto il primo è che la desert stone quando scavata droppa ora cioè da cobblestone del deserto e non da più direttamente la desert stone inoltre sono state aggiunte le ricette per gli stone brick di stone del deserto e le relative scale e slab e questo potrebbe essere molto interessante soprattutto per carattere estetico e per costruzioni che si possono magari fare nell'ambito dei deserti visto che per quel tipo ne esistevano pochi insomma ah ecco adesso qui c'è un deserto dovremmo ah un albero ecco punto è solo per fini estetici questo però secondo me arricchisce parecchio il gioco perché dà più possibilità di costruzione uno non deve fare sempre le solite costruzioni in cobblestone io sono abbastanza schizzinoso diciamo riguardo agli stone brick perché qui costano davvero un sacco su mine test hai bisogno di 4 pezzi di roccia per poter avere uno stone brick e i 4 pezzi di roccia vuol dire che devi scavare oh sta laggando un po' devi scavare la cobblestone e poi in seguito devi pure oh non trovo le parole devi pure cuocerla devi pure cuocerla e quindi è abbastanza dispendioso vuol dire che tu devi scavare 4 pezzi di cobblestone devi cuocerli e in più cosa ne ottieni? uno solo di stone brick secondo me è molto scomodo comunque come potete vedere cosa ci ha dato la desert cobblestone e non la cobblestone normale qua possiamo fare come potete vedere gli slab possiamo fare le scale e possiamo fare i brick ah no i brick però vanno fatti con la... se viene cotta posso fare una fornace con questa? non credo ah si? invece si invece si vabbè comunque vi fidate? no? no non vi fidate allora facciamo questa fornace la mettiamo qui prendiamo ancora 1, 2, 3 e 4 ok devo fare attenzione a non cascare là dentro dopo abbiamo qualcosa per cuocere si il legno perfetto allora altre cose che sono state aggiunte ero arrivato a desert cobblestone è stata aggiunta la mod extended doors che in pratica aggiunge altri tipi di porte che sono la porta in vetro la porta in vetro di ossidiana la porta in vetro di ossidiana si fa cuocendo le shard di ossidiana e sono degli elementi anche là più decorativi che altro hanno aggiunto sempre relativo a questi cambiamenti più estetici diciamo i glass paints e le iron bars che erano già presenti in minecraft su modello di minecraft insomma diciamo con i crafting simili a quelli di minecraft ora è stato cambiato anche il modo di minare i papiri e i cactus da quello che ho capito adesso non ci sono neanche cactus qua nei dintorni o papiri papiri forse ce ne erano prima ma ora non più comunque come saprete sicuramente non so parlare oggi da la 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 comunque un tempo uh la dei cactus un tempo se voi aveste minato un blocco nel centro di un fusto diciamo di canne da zucchero oppure cioè di papiri o di cactus sarebbero rimasti due blocchi separati semplicemente no adesso invece funziona un po' come in minecraft anche in questo caso nel senso che se voi rompete questo blocco ah no qua ho bisogno della ho bisogno dell'accetta ah altro cambiamento di cui parlerò forse in seguito è il fatto che adesso l'accetta si può fare in tutti e due i modi questo e questo è interessante sì ma non sensazionale diciamo visto lo stesso avviene anche per i papiri adesso quindi basta rompere la parte di sotto e viene droppato l'intero cactus un altro cambiamento riguarda un oggetto che adesso non vi potrò far vedere perché purtroppo stupidamente non sono in creative quindi no dove che avevo lasciato la fornace forse era qua comunque non sono in creative è il fatto delle bookshelves cioè delle librerie un tempo le librerie erano solo una questione estetica adesso sono sempre quasi solo una questione estetica però hanno qualche cosina di più però scusate forse give me default bookshelf no devo metterci una s vediamo se funziona oh sì perfetto 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 ok e se io facessi give me default book funziona come inventario ma in questo inventario cosa possiamo mettere? possiamo mettere solo dei libri però è già molto più furbo nel senso come come funzione almeno ha una funzione di storaggio dei libri adesso è stata aggiunta anche una sorta di protezione per le fornaci non ho capito esattamente come se ci sono degli altri tipi di fornaci tipo le ceste quelle con quelle con il lucchetto oppure se ci sono altri metodi quello non l'ho ancora analizzato con precisione però come potete vedere c'è stato aggiunto il progresso come avete visto anche di sicuro prima mentre cuoceva la desert stone ma adesso lo vedrete di sicuro ecco c'è l'indicatore di progresso in cui indica quanto ci mette per cuocere non è molto regolare nel senso come potete vedere ha fatto un tac fino qua e poi ha finito però è comunque una cosa in più diciamo che se non altro dice aspetta perché lo sta facendo non è che è bloccata sono stati aggiunti due comandi ed un relativo privilegio che sono il comando set home e che serve per salvare un punto dove viene considerato come casa e home dove si viene teletrasportati a quel punto là la questione del privilegio è appunto che nei server multiplayer può essere utilizzato questo comando solo da chi ha il privilegio home e appunto è stato costituito un relativo privilegio come quali già presenti per la corsa per il volo eccetera eccetera sono stati aggiunti due oggetti secondo me abbastanza inutili cioè la hoe cioè la zappa di diamante di mese secondo me è assolutamente inutile costruire un oggetto così dispendioso soprattutto per un oggetto che viene utilizzato quasi mai cioè molto raramente però sono state aggiunte insomma c'erano tutti gli oggetti sia in mese che in diamante c'è anche in mese in diamante la oe non era mai stata fatta hanno aggiunto anche quella ora finalmente secondo me è un cambiamento che andava proprio fatto le giungle spawnano di base nel senso sono state aggiunte nella generazione del mondo e di conseguenza appariranno a meno che non si cambiano le impostazioni nei file di generazione del mondo altra cosa che avete visto di sicuro prima quando vi ho fatto vedere con il eh adesso non ce l'ho più al desert cobblestone dovrò andare a prenderne altra allora prendiamo delle desert cobblestone uno nel numero di sei due tre quattro dieci e trentadue e ora saliamo su le scale un tempo mettendo questi sei blocchi qua dava quattro scale adesso hanno cambiato e da sei scale secondo me anche questo un grande cambiamento perché quattro era davvero un numero infimo perché utilizzavi sei blocchi e facevi solo quattro scale per esempio se io avessi voluto fare cioè sostituire dei blocchi disposti in questo modo se avessi voluto sostituire questi tre blocchi con delle scale ci avrei rimesso insomma perché avrei dovuto utilizzare sei blocchi per farne solo quattro mentre invece ora è più corretto secondo me time 6.000 no 600 ok altre cose il punch sulle ossa che da tutto l'inventario l'ho già detto ultima cosa è stato aggiunto uno sfondo per l'inventario come potete vedere e in più c'è la differenziazione tra quello che è la hotbar cioè quello che si vede qua e il resto dell'inventario e in più c'è sono state cambiate alcune texture come io quelle che ho notato sono la texture dei diamanti la texture degli oggetti in diamante la texture della cobblestone e non so cos'altro effettivamente non so che cos'altro è stato cambiato voi scrivetemelo nei commenti se avete notato altri oggetti di cui è stata cambiata la texture credo di aver detto tutti i punti fondamentali se aveste per caso qualche domanda vi invito a scrivermela qua sotto nei commenti e vi invito a fare le solite cose a lasciarmi un mi piace che è molto gradito qualcuno lo facesse ogni tanto sarei molto contento lasciarmi un commento soprattutto riguardo a questi cambiamenti nel senso se voi sono cambiati cioè se è stato se sono stati dei cambiamenti non so parlare oggi scusatemi se ci sono stati dei cambiamenti che per voi sono stati discretamente significativi o se per voi sono abbastanza inutili qual è il cambiamento che vi è stato più utile secondo voi e e se avete notato delle texture diverse da quelle che erano in origine perché su changelog non c'è specificato esattamente quali texture sono state cambiate potete venirmi anche a trovare sulla pagina facebook di cui il link è in descrizione io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao